la situazione abbiamo il cannone della morte scura ma non perdiamo tempo qui c'è da scannerizzare l'applicazione lego life e poi c'è un geli un geli che lo scoprirete come si chiama obi wanken obi andiamo ad aprire prima facciamo il giro di scatola diciamo busta 1 posta 2 ora apriamo questo lo sai che se lo apro perché c'è il mantello di obi wanken obi un geli ce l'ha appiccio ora li mancano non è un geli ce l'ha appiccio ora li mancano che la forza sia con te quattro di questi uno due tre quattro e li mettiamo uno qui non è un geli ce l'ha appiccio 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 Grazie a tutti. 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 Obi-Wan. Vi distruggerà la morte nera. A cominciare dal cannone. Grazie a tutti. 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 Willi. Esprime a tutti. a tutti.